Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. La schiettezza di Marina Larosa è ormai cosa nota. Non solo in tv, ma anche via social. Proprio su Instagram, nella giornata di ieri 1 dicembre, l'ex Jeffine ex naufraga dall'isola dei famosi, si è lasciata andare ad una confessione intima. Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi? Le ha chiesto un follower in riferimento alle stories in cui la conduttrice Mediaset aveva mostrato il proprio sex toy. Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E meno male, ha scritto Marina Larosa a corredo dello scatto del giocattolo erotico Color Fucsia.